La mobilità europea del programma Erasmus Plus è uno degli obiettivi prioritari del sistema nazionale formativo edile in Italia. Dal ritorno della esperienza in Svezia, Spagna e Germania, i nostri ragazzi hanno segnalato alcuni punti di forza. La forza della mobilità europea è valorizzare l'esperienza acquisita, una buona strategia per accrescere l'occupabilità. Si scoprono nuovi materiali, nuove tecniche di lavoro, si cresce individualmente nel gruppo, implementa le conoscenze sull'innovazione tecnica e professionale, favorisce l'interculturalità e il lavoro di gruppo, simula la condivisione, la riflessione comune, combina teoria e pratica. Ha una valenza educativa e sociale, ti aiuta a essere più flessibili ad aprire la tua mente. Girare l'Europa ti fa conoscere altre realtà, ti insegna a comunicare con gli altri, anche con i pesci. La convivialità di un passo ti apre nuovi orizzonti, ti fa conoscere differenti abitudini, gusti, ti avvicina agli altri, rende più emozionante anche il tuo compleanno. È un modo diverso di festeggiare, no? Un gruppo di Vicenza, di quelli che sono andati in stagio all'estero, di due settimane, varie attività, basate sui serramenti, sull'installazione di serramenti. Quindi affrontavamo le giornate nella scuola corrispettiva di ILE e qui trattavamo con un professore di pratica. Nelle ore successive si svolgevano in laboratorio, dalle 4 alle 5 ore, divisi a gruppi. Nel tempo libero si andava in giro per la città con i professori e si trattava un po' di campi della storia, della cultura, appunto di un'altra realtà. In questo caso ci potevamo fare un'idea di com'è il mondo al di fuori dell'Italia e il mondo del lavoro, che ci ha reso un gruppo molto più uniti. È un'esperienza che ti dà un'idea molto precisa sul mondo del lavoro. Grazie a questo stage non abbiamo avuto solo competenze pratiche, ma adesso siamo anche forniti di un patentino. Rappresenta la nostra competenza nel montare questi serramenti, che viene riconosciuto in tutta Europa. Avremo una marcia in più nel mondo del lavoro. Sono più qualificato in quanto ho esperienza in diversi campi, sia all'estero che in ambito nazionale. Ho più facilità nell'ambientarmi con le altre persone. Qualcuno che non ha avuto esperienza all'estero potrebbe trovarsi in difficoltà, anche nell'eseguire certi lavori, nel capire. Mentre io, che ho avuto questa opportunità, sono avvantaggiato. L'esperienza di mobilità internazionale è stata assolutamente positiva ed utile. I ragazzi li ho visti più uniti e soprattutto più consapevoli della dimensione non soltanto locale, ma anche nazionale ed europea, che può avere questo tipo di esperienza. Mi sono reso conto che è un'esperienza che ha soltanto vantaggi e benefici. Spero che si possa ripetere in modo continuativo, negli anni, nel medio e lungo termine, nell'interesse di tutti i ragazzi che frequenteranno i nostri centri panorama nazionale. Ciao! 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 Grazie a tutti.